Che piacere, la Viviani è tornata a Livigno e ormai per te è diventata una seconda casa Sì, è un piacere mio come ogni anno tornare quest'anno anche in questa situazione però il lato positivo è che ho la calma di poter stare 3-4 settimane quindi un vero mese intero e lavorare come si deve proprio per avvicinarci alle gare oramai siamo prossimi al ritorno alle gare per il ciclismo il primo agosto è una data importante, qualche gara c'è già ma l'attività più di alto livello comincia il primo agosto quindi ci stiamo preparando e non c'è posto migliore che qui a Livigno Ti stai preparando, presumo, per la tua prima gara importante che dovrà essere, presumo, la Milano-Sanremo Assolutamente sì, calendario totalmente stravolto e ci sarà una Milano-Sanremo l'8 di agosto sarà particolare perché arriveremo con tanti allenamenti sulle gambe ma pochissime gare perché la stagione riparte il primo di agosto, io farò l'esordio alla Route d'Ossitanie in Francia con il mio team francese, il team Cofidis e da lì sarà una tappa importantissima a vedere a che punto siamo proprio per la Milano-Sanremo quindi quello sarà il primo appuntamento, 20 giorni dopo comincia il Tour de France e quello è il secondo subito obiettivo successivo alla Milano-Sanremo siamo qui, siamo qui a lavorare e sarà importantissimo più che mai lavorare e farsi trovare pronti perché come potete immaginare stagione corta, solo qualche mese, tutto intensificato se non si arriva pronti non c'è tempo per recuperare quindi siamo qui, da oggi arriva anche il team quindi saremo 12-13 corridori del team Cofidis qui attorno a me e come detto sfrutteremo queste grandi montagne e queste giornate spettacolari per stare in bici tante ore Ma partiamo dalla Milano-Sanremo, quella via Roma che cosa rappresenta per te? Quante volte te l'hai insegnata? Assolutamente tante, non ci sono mai andato vicino, il miglior posto non ho posto però è la corsa dei sogni per un velocista italiano e sono cresciuto tantissimo negli ultimi due anni da quell'Olimpiade di Rio 2016 che mi ha dato un po' la svolta nella mia carriera anche su strada e diciamo che non la sogno di notte ma qualche notte sì Vivendo a Monte Carlo in via Roma ci passo spesso a Sanremo perché vado a fare la ricognizione, vado a vedere la cipressa, il poggio per vedere e conoscere ogni angolo di quella classicissima che bisogna conoscere perché probabilmente è vero che è una delle classiche che bisogna corteggiare che bisogna andarci vicino qualche volta prima di fare il colpaccio quindi speriamo che possa essere l'anno buono e ovviamente farò tutto il possibile perché lo sia Tu hai cambiato squadra, sei nella Cofidis, team francese e il capitano in italiano quindi per noi è davvero un grande, grande onore Sì, ho sposato questo progetto lo scorso anno nel team Cofidis che ha costruito una squadra attorno a me quindi il privilegio di avere un team francese in questo caso ma che abbia costruito qualcosa intorno a me quindi il mio treno, dei compagni che comunque si sacrificano per me dall'inizio alla fine quindi partire anche ad un obiettivo importante come la Milano Sanremo come il Tour de France con altri sette compagni, sei compagni che sai dalla linea di partenza che daranno il 110% per te è motivo d'orgoglio per me, anche una grande responsabilità ovviamente Team Cofidis ha come grande obiettivo tornare a vincere al Tour e tanti anni che non vincono una tappa al Tour e quello è l'obiettivo principale del team e quindi anche mio Nel team c'è anche tuo fratello, quindi un supporto anche psicologico oltre che fisico Sì, Attilio che tra l'altro è qui anche, quindi è tra i corridori che farà questo stage di allenamenti qui non sarà nel mio calendario perché fa un'attività parallela per prendersi le sue soddisfazioni perché ricordiamo lui ha già vinto quest'anno, io no quindi da giovane è giusto che trovi la sua strada però è sicuramente motivo d'orgoglio essere in due fratelli in un team World Tour di altissimo livello e questo veramente il passaggio al professionismo di Attilio nel mio stesso team è stato un qualcosa di speciale per la nostra famiglia oltre che per me che ho sempre visto in lui un grande talento e finalmente realizzato E Lia, cosa dire invece del Giro d'Italia, di quella maglia ciclamino che potrebbe essere un tuo obiettivo? Sì, è un sogno, nel senso che quest'anno come ho detto è un po' difficile far combaciare tutti gli obiettivi ma c'è questo Giro d'Italia che parte dieci giorni dopo il Tour de France valuteremo durante il Tour se è il caso di provarci perché alla fine dopo un grande Tour dovete provare a immaginare potete uscire da questo grande Tour bene, quindi con qualche energia ancora oppure male male perché è stato un Tour magari durissimo quindi valuteremo il secondo giorno di riposo se è il caso di partire al Giro e se partirò è perché ho tutte le energie recuperate dal Tour e sarò in grado di competere con Sagan al suo primo grande giro per la maglia ciclamino e a tornare a fare un Giro d'Italia come quello del 2018 che per me era stato veramente i migliori 21 giorni della mia carriera nel senso un periodo bellissimo, quattro vittorie di tappa la maglia ciclamino dal primo all'ultimo giorno in Italia, quindi tutti i tifosi italiani che mi hanno dato quella carica che serviva quindi per un italiano c'è poco da dire, resta la corsa dei sogni Ti chiedo invece il tuo parere circa la Ineos, tre galletti in un pollaio Fruma, Thomas e Bernal, che cosa succederà? Sono stato in quel team, quindi all'epoca Team Sky che è una squadra organizzatissima e sapranno trovare un accordo tra i tre capitani hanno già fatto primi secondi al Tour due volte, forse tre quindi ci sarà da programmare qualcosa per provare a batterli vedo una lotto jumbo veramente forte per provarci con Roglici, Domolen, Kruiswick hanno una squadra veramente costruita simile al Team Ineos quindi sarà una bella battaglia tra loro per la classifica generale conosco bene i ragazzi del Team Ineos e sicuramente avranno un piano per vincere il Tour poi chi dei tre lo vincerà lo vedremo purtroppo mancherà in ammiraglia un grande direttore sportivo un grande amico che è Nico Portal che purtroppo è scomparso prematuramente lui secondo me era uno delle armi più forti che aveva il Team nel gestire queste situazioni quindi vedremo però sono convinto che hanno talmente un potenziale forte che troveranno un accordo se non per fare primo o secondo insomma per comunque vincere il Tour de France Elia, ti vediamo quest'oggi in relax probabilmente avrai già pedalato o ci andrai dopo ma vediamo anche all'orizzonte un po' di fumo perché a mezzogiorno c'è una grigliata ma oggi il bello di questo periodo di allenamenti qui a Livigno è che ci troviamo anche tra avversari ma comunque amici a Livigno abitualmente ogni anno ci siamo quindi Matteo Trentin, Bettiol e tanti altri mio fratello e siamo qui con le famiglie quindi dopo le sei ore e mezza di ieri con 4.000 metri di slivello e quindi un allenamentone oggi lasciamo la bici parcheggiata e ci divertiamo un po' e facciamo una mangiata in compagnia prima di cominciare altre due settimane di stage con il team che probabilmente sarà molto più schedato quindi ultima giornata libera poi due settimane di lavoro serio per poi essere come ho detto prima pronti a quel primo agosto che sarà la data di la ripartenza per noi sei riuscito a pedalare qualche volta anche con la tua fidanzata Elena Cecchini? sì assolutamente siamo qui abbiamo programmato bene questo periodo apposta insieme mi sa che non abbiamo mai passato così tanto insieme tra il lockdown e questo periodo di alture di preparazione assolutamente sì tutte le mattine partiamo insieme ognuno ha programmi differenti ma facciamo combaciare un po' le giornate quindi lei pedala spesso con me cosa dire di questo lockdown? avete messo a frutto le vostre doti da cuochi ho letto di grandi sfide a pizze Netflix a go go ed anche qualche prova prematrimoniale? ma diciamo che se c'era una prova ancora da passare che è quella di stare più di tot tempo insieme perché come potete immaginare due professionisti uno parte per una gara l'altro torna l'altro riparte per una gara abbiamo capito anche in questo lockdown dopo 3-4 mesi insieme che siamo fatti per stare insieme quindi durante questo lockdown ci siamo un po' divertiti a casa e siamo rimasti a casa è stato pesante il lato sportivo perché odio i rulli e quindi è stato pesante ogni mattina è stata pesante ma l'abbiamo programmata bene con una palestra un po' allestita nel garage e poi come hai già anticipato qualche sfida la cuoca Elena quindi io magari in qualche serata mi lettavo magari per la pizza o comunque per un risotto così per dargli il cambio però insomma c'è stata collaborazione vi abbiamo passato benissimo questo lockdown adesso che hai nominato la pizza quanto di italiano cercherai di portare nella Cofidis che ricordiamolo è già di forte matrice italiana a partire dal tuo nuovo mezzo dalla tua bicicletta assolutamente sì una delle cose che mi ha reso orgoglioso è proprio che nel momento che ho sposato il progetto Cofidis tanti brand italiani si sono attivati per esserne parte quindi a partire dalle bici de rosa hanno risposto subito il gruppo e le ruote Fulcrum e Campagnolo ci sono le stelle Italia abbiamo Elite come sponsor abbiamo Nalini come vestiario quindi questo mi ha reso veramente orgoglioso perché significa che ho creato un qualcosa e che brand importanti italiani che sono comunque sempre al top a livello mondiale hanno visto nel nostro progetto una cosa interessante è un vincolo praticamente importante per una vetrina nel World Tour che possiamo dare ecco quindi poi devono arrivare le vittorie ma siamo partiti bene italiano in Cofidis assolutamente mi sono portato i miei fedeli quindi Sabatini, Consonni c'è Attilio il direttore Damiani che è stato una figura fondamentale di questa attrattiva e di questo passaggio e poi ci siamo veramente ben integrati con il gruppo francese la squadra è francese ma ci sono veramente i ragazzi hanno visto in me una guida, un leader da supportare quindi questo mi fa piacere è ovvio che quando arrivi in un ambiente nuovo c'è del lavoro da fare il lavoro l'abbiamo fatto questo lockdown forse ci ha anche aiutato a prendere tempo ed ora dobbiamo ripartire più forti che sempre una breve parentesi sulla pista le Olimpiadi sono state partecipate arrivederci al 2021 ci arriverete comunque dopo un inverno in cui ci sono ancora dei punti di domanda circa le Coppe del Mondo indoor in pista quindi si arriverà ad un'Olimpiade scarichi di gare? sì è una cosa un po' strana nel senso che purtroppo questo rinvio combacia con la rivoluzione dell'UCI per quanto riguarda la pista quindi mondiali in estate Coppe del Mondo in estate e quindi c'è un inverno vuoto un inverno che sarà ricoperto comunque da delle gare internazionali dai campionati europei che stanno per essere ufficializzati a novembre e poi a febbraio quindi molto ravvicinati proprio per dare ai team europei delle competizioni su cui misurarsi penso che sì sarà difficile arrivare all'Olimpiade senza confronti però probabilmente abbiamo visto comunque il nostro metodo di allenamento è buono e in gare come il quartetto dove ai tempi non si scappa sapremo arrivare pronti per quanto riguarda il rinvio assolutamente secondo me è una notizia positiva perché scalpitavo durante il lockdown che non sapevo cosa succedeva il periodo di preparazione come sarebbe andato se si poteva muoversi quindi tutti questi punti di domanda che erano troppi quindi un respiro di sollievo quando sono state rinviate le Olimpiadi e la nostra nazionale era pronta ci faremo ritrovare pronti fra un anno qualche giovane è un anno in più per crescere quindi perché no io guardo sempre bicchiere mezzo pieno saremmo più forti che quest'anno assolutamente un paio di settimane fa al passo d'ero ho avuto occasione di incontrare Mark Cavendish e io ho chiesto insomma se quell'argento se aveva ancora sorriso per un argento magari era un po' rammaricato per un oro sfumato e lui in tutta la sua tranquillità con un buon italiano mi ha detto certo che no il D. Viviani è stato più bravo di me se mi ha meritato l'oro ho chiesto anche se cercava vendetta e lui mi ha risposto non lo so vedremo sarà un avversario temibile sempre? Cav è sempre temibile abbiamo visto su strada che non è più quello degli anni scorsi ma nel 2016 ha dimostrato veramente che tutti lo davano per verso la fine ha vinto quattro tappe al tour si è ritirato al tour è venuto all'Olimpiadi è stato l'uomo più forte da battere quello più pericoloso per il mio oro olimpico quindi ho imparato a non dar mai prescontato che Cav sia nella via nel tramonto e quindi sì lo metto in conto anche se ovviamente ha una concorrenza a livello Inghilterra inglese di giovani che purtroppo dovrà dovrà conquistarsi il posto quindi se sarà Cav a Tokyo sicuramente avrà un occhio di riguardo perché fino a prova contraria lui è stato quello più forte e quello che ho dovuto battagliare per quell'oro a Rio quindi assolutamente se i Cav non bisogna mai darlo per vinto Elia parliamo anche della sicurezza stradale ci aspettavamo forse che dopo il lockdown qualcosa cambiasse invece purtroppo pare non troppo è di recente purtroppo la tragica scomparsa di Roberto Agosti insomma le strade mietano ancora vittime purtroppo sicuramente la vicinanza di tutti noi pro anche nei giorni scorsi a Marco Velo che comunque è un collaboratore del CT Cassani è sempre vicino e attivo a noi se non sempre in moto anche al giro alle gare di RCS quindi è una figura importante per noi professionisti quindi sicuramente tutto il nostro supporto e il nostro coraggio va a lui per affrontare una nuova ripartenza dopo veramente un fattaccio brutto per quanto riguarda la sicurezza stradale dobbiamo lottare dobbiamo lottare per cambiare qualcosa perché non si può continuare così qualcuno pensava sì che dopo il lockdown magari un po' le persone cambiassero perché il lockdown ci ha dimostrato che nessuno è impotente nel senso che puoi essere chiunque il più grande imprenditore o l'operaio o il senza tetto o lo sportivo più pagato al mondo ma ci ha dimostrato che qualcosa di superiore che blocca tutto c'è quindi questa cosa probabilmente pensavamo che cambiasse un po' che calmasse gli animi perché comunque il problema principale per quanto posso immaginare o comunque secondo il mio pensiero è proprio la frenesia che c'è nelle persone per strada questo è il problema principale il traffico tante macchine tanto che quando trovi il ciclista che va a 30 a 35 a 40 perché alla fine i professionisti amatori queste sono le velocità che fanno per strada non si ha quei 10 secondi da aspettare il momento giusto per sorpassare quindi io sono anche un automobilista faccio 30.000 km in bici ma anche 40.000 in macchina all'anno quindi da tutte e due le posizioni dico la cosa più importante è darsi una calmata e cercare di condividere la strada perché anch'io quando sono in macchina e trovo un trattore cosa fai? rallenti e quindi proviamo a immaginare che i ciclisti siano un trattore senza tanto agitarsi o incavolarsi ecco poi i consigli per i ciclisti ci sono cercare di occupare il meno posto possibile avere sempre del vestiario visibile perché alla fine il distratto automobilista appena riguarda la strada vede un colore flesciante e può accorgersi prima di un colore scuro quindi il fanalino deve essere oramai secondo me anche obbligatorio come lo deve essere il casco quindi ci sono delle cose che il ciclista può curare ma alla base di tutto c'è il rispetto e il condividere la strada grazie a tutti